19.000 appuntamenti che saltano, un altro intoppo per la campagna vaccinale della Toscana a causa di un ritardo nelle consegne del vaccino AstraZeneca. Le prenotazioni del primo e del 2 aprile effettuate dai cittadini nati tra il 1941 e il 1951 saranno spostate ai giorni immediatamente successivi con vaccinazioni anche nelle sere di Pasqua e Pasquetta dalle 20 a mezzanotte per recuperare il tempo perso. Noi avvertiremo quelle persone che in realtà sono 19.000 persone che erano prenotate per il primo e il 2 che non potranno ricevere così come previsto la prenotazione ma ci adopereremo perché nei giorni immediatamente successivi appena arrivano i vaccini li possiamo programmare negli spazi diciamo finora scoperti. Le dosi previste per il 30 di marzo arriveranno probabilmente il 2 di aprile e dunque saranno pronte per il 3. Cercheremo cioè di non distruggere distogliere la pianificazione di chi ha ricevuto appuntamento dal 3 ai giorni successivi. Nessun ritardo invece per i vaccini Pfizer dunque il programma per gli over 80 tramite i medici di famiglia prosegue con l'obiettivo di somministrare la prima dose entro il 25 di aprile a tutti gli appartenenti alla categoria.